in Italia 1 vai 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 guardi il cavo e adesso devi tornare giù o vieni sul forte senza paura o se no piano ti capota ma niente non devi chiudere non devi chiudere perché nel momento che lo chiudi ti va indietro ti capota adesso è capata zio questo che tu chiudi che ti va indietro e ti ribatta ma se tu tieni aperto tu te l'hai cagato la caglia d'osso, la lenta, la cosa di piano mettiamoci tutto qui davanti